Il Molise è al primato in Italia per dissesto idrogeologico. La situazione è sempre più grave con l'obiettivo di spingere il governo a dare risposte certe in tempi brevi. La parlamentare del PD Laura Venitelli ha presentato due interrogazioni. La prima sull'ultima frana in ordine di tempo, quella di Petacciato, che ha tagliato in due ladriatiche che mette a rischio un intero territorio. La seconda invece riguarda più in generale la situazione del Molise. Dall'interrogazione vogliamo passare alla risoluzione, ha spiegato la deputata, che saremo noi a proporre al governo. Stiamo preparando infatti in collaborazione con la regione un possibile intervento radicale che non sia insomma un rattoppo, ha aggiunto la Venitelli. Nell'incontro che la deputata ha avuto con Italia Sicuro, la nuova struttura creata dal governo per contrastare il dissesto idrogeologico si è fatto un discorso di abitanti coinvolti e nella logica dei numeri, un dato di fatto, siamo perdenti. Tuttavia la Venitelli è ottimista, considerando che la frana interessa un territorio in cui passano arterie strategiche come la ferrovia e l'autostrada. Da qui la necessità di creare una cabina di regia come proposto dal vice sindaco Alberto Di Vito, con tutti gli enti coinvolti come ANAS, ferrovie, autostrade, regione, provincia e comune per decidere una strategia di intervento unica. In tutto questo però la società autostrade sta già andando avanti da sola e ha già pronto un progetto per aggirare la frana e spostare il tracciato nell'interno. Penso che sia necessario intanto avere una risposta immediata dal governo con la interrogazione urgente che ho presentato in Parlamento per capire in che modo lo Stato può intervenire su questa soluzione, quali sono i passaggi. Poi contestualmente come diceva il vice sindaco prima in conferenza stampa è necessario mettere attorno a un tavolo tutti i livelli, cioè tutti gli enti che hanno una partecipazione sul territorio di appetacciato, in che termini, partecipazione in termini di strutture, infrastrutture, di competenze istituzionali, insieme per capire insomma le risorse dove devono essere attinte e soprattutto i tipi di intervento, ribadisco, che poi deve essere prioritario a mio modo di vedere e soprattutto quello che è una verifica di carattere scientifico. Perché ha appetacciato la situazione? È così? Che cosa dal punto di vista scientifico si può fare? La Venitelli fa appello anche ai sindaci di altri comuni interessati da Frane in modo da presentare a Roma un quadro dettagliato di tutta la regione.